con mister di giovanni mister vittoria rotonda oggi contro un sette bagni comunque molto tenace fino a tutto il secondo tempo praticamente però avete approcciato bene alla gara se posso fare un appunto forse qualche caldo di tensione nella ripresa sì assolutamente sì abbiamo approcciato bene perché comunque sapevamo venivano da risultati importanti a dicembre è una squadra che ha fatto pochi meno punti di noi quindi una squadra che sta in forma sta bene e molto organizzati l'abbiamo approcciata bene abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo magari non siamo riusciti a fare più gol del dovuto che magari potevamo fare però è stata bene il secondo tempo ai ragionati infatti mi sorrabbiavo tanto purtroppo sul 2-0 abbiamo fatto un po' finita e se non ci graziano loro probabilmente riavremo la partita però la fortuna ci ha assistito oggi dai 97 gol realizzati ministra una macchina da colli impressionante adesso però c'è il doppio impegno importante Vico Vicovaro e poi Fiano Romano qui si vedrà veramente di che pasta è fatta la Tivoli ma la Tivoli ha già fatto vedere di che pasta è fatta e chiaramente il calcio purtroppo ci dice che dobbiamo sempre dimostrare e dimostreremo anche con Vicovaro e Tivoli con Vicovaro e Fiano che siamo una squadra che vuole vincere e che ci ha fame di arrivare Sì diciamo di sì siamo partiti come detto te molto paurosi cosa che ho sgridato la mia squadra a fine primo tempo e solo che con l'ingresso di Moscuso e anche di Belli ho visto una marcia in più logicamente la Tivoli è una squadra sta lì proprio perché ha dei mezzi in più a tutti quanti secondo me a tutto il girone certo sul 2 a 0 riapri con il rigore poteva starci qualcosa dopo siamo andati vicino al gol altre due occasioni però questo è il risultato quindi è giusto che sia questo